E' il più antico dei quattro palazzi che sorgono ai lati di Piazza del Popolo, Palazzo Ducale, attuale sede della Prefettura. Fu costruito a più riprese dai signori che governarono Pesaro fra la fine del 1200 e i primi anni del 1600. Con un nucleo originario che si deve probabilmente a Imala Testa, fu ampliato da Alessandro Sforza per adeguarlo alle esigenze di una corte rinascimentale. Saranno i della Rovere, duchi di Urbino e Pesaro, ad ampliare la costruzione fino alle attuali dimensioni. Da oggi questo magnifico palazzo entra ufficialmente nel circuito museale della città. A beneficio del popolo pesarese e soprattutto a beneficio dei giovani che possono trovare in questo momento un valido input per uscire da questa segregazione forzata che soprattutto il popolo dei giovani e degli anziani hanno dovuto affrontare e superare. Il salone metaurense, la loggia del Genga, i saloni di rappresentanza, il cortile d'onore, il cortile della caccia, il giardino segreto. Il visitatore potrà accedere a tutti questi ambienti. Due percorsi previsti, quello completo, un'ora e mezzo in programma ogni sabato mattina, il percorso ridotto di 45 minuti, il martedì e il giovedì pomeriggio. La gestione è a cura di sistema museo e la visita è un benefit gratuito incluso nel biglietto di Pesaro Musei.